Al presidente di Assoturismo, Confesercente Abruzzo, Gianluca Grimi, non piace assolutamente il progetto presentato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, che ha deciso di creare anche in provincia di Terra un bypass ferroviario tra Alba Adriatica e Roseto, con un costo stimato di circa un miliardo di euro. Il tracciato, con inizio a sud della stazione di Alba Adriatica, si allontana dalla linea storica sviluppandosi verso l'interno. Data la morfologia del territorio, il tracciato si estende principalmente in galleria per poi terminare sul rettilineo prima dell'impianto di Roseto degli Abruzzi. Una decisione quella del Ministero che secondo Grimi andrebbe a penalizzare fortemente il Comune di Giulianova, che ad oggi rappresenta lo snodo cruciale della provincia di Teramo. La politica territoriale, soprattutto terramana, sta esultando secondo me a sproposito perché non hanno visto bene il progetto, perché il progetto in realtà esclude la provincia di Teramo dai traffico a lunga percorrenza. Questo non può essere normale. È previsto un bypass ferroviario da Alba Adriatica a Cologna, Roseto, con un tracciato di 16 km, di cui 10 km di gallerie e 4 km di viadotti, per cui un'opera fortemente impattante, che otterrà solo il risultato di sventrare il nostro territorio per far passare i treni a 180 all'ora anziché a 130, per cui si guadagnerà più o meno 3 minuti, con il risultato di escludere la stazione Giulianova, ergo la porta d'ingresso della provincia di Teramo, dal traffico a lunga percorrenza. L'obiettivo del progetto è quello che attraverso la realizzazione di nuove tratta all'interno per il transito dei treni veloci si alleggerirà il traffico sulla costa, conservando la linea esistente per la funzione di trasporto pubblico locale a beneficio dei molti pendolari turisti. Ma per Grimi la spesa che il Ministero ha deciso di mettere in campo dovrebbe essere utilizzata per riqualificare e potenziare le linee già presenti, come quella giugliese. Siamo d'accordo con il potenziamento della linea adriatica, ma fatta in un certo modo, fatta veramente bene, non escludendo una provincia. Nelle Marche abbiamo 160 km di costa e 4 punti di fermata per i Frecciarossa. In Abruzzo abbiamo 137 km di costa e a questo punto, se togliamo Giulianova, avremo un solo punto di fermata a Pescara. C'è una discrasia improponibile per una regione che non lo merita e soprattutto per una provincia di Termo che verrà fortemente penalizzata sia dai per sé stessa sia come porta di ingresso sull'Aquila, perché Giulianova è anche la porta dell'intermodalità ferroviaria treno-bus con l'Aquila. Non dimentichiamolo.